Ciao ragazzi, devo mostrarvi subito questo super canale che è Play for Fun di Yanex e Peppe e devo dire, non solo ha dei bellissimi video che potete guardare di games, videogames eccetera e quant'altro ma voglio ringraziare tantissimo Yanex e Peppe perché tramite loro sono riuscito a ottenere l'affiliazione alla partner e quindi niente, sono molto contento di ciò così metterò un bel pannerone sì, me lo farò fare perché graficamente ci sono una pipa e quindi spero che designer me lo faccia al mio amico designer che me lo prepara visto che lui graficamente è un genio secondo me e quindi e poi niente, cos'altro dirvi e quindi cosa cambierà all'interno del mio canale ma per voi poco, magari vedrete qualche pubblicità all'inizio dei video però niente, lasciatemi dire che io sono molto contento di questa cosa ringrazio ancora Play for Fun e dico a tutti voi di iscrivervi a questo bellissimo canale e perché no chiedere consiglio a Yanex e sentire se avete i requisiti per avere questa affiliazione insomma parlarne con lui perché mi sembra una buon cosa poi adesso all'interno di Youtube lo so che ce ne sono tante altre che fanno queste cose ma non so se tutti hanno la disponibilità come l'ha avuta Play for Fun che ringrazio ancora tantissimo e cos'altro dire? niente che sto... sto andando su e giù con il mouse che vi starò facendo impazzire con la testa ma niente, non c'è nient'altro da dire andate subito al link davvero ricordate ancora Play for Fun di Yanex e Peppe iscrivetevi subito ciao ciao da Svideogame ciao 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 ciao